L'anno 2011, il giorno 12 del mese di dicembre in Roma nel Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente del Senato della Repubblica, Senatore Avvocato Renato Schifani e del Presidente della Camera dei Deputati, Onorevole Dottor Gianfranco Fini, presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il Giudice della Corte Costituzionale, Dottor Mario Rosario Morelli, eletto dalla Corte Suprema di Cassazione il 18 novembre 2011. Io, Mario Rosario Morelli, giuro sul mio onore di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi dello Stato, esercitando le mie funzioni di giudice della Corte Costituzionale nell'interesse Supremo della Nazione. Del giuramento del Giudice della Corte Costituzionale Mario Rosario Morelli, prestato oggi, 12 dicembre 2011, in Roma, nel Palazzo del Quirinale, nelle mani del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, è stato redatto distinto verbale, firmato dal Giurante, dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati. E' la prima elezione. Grazie. 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 Grazie.